Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! Ben ritrovati! Siete pronti per un'altra serata in compagnia di Eurojackpot? Questa sera ci spostiamo in Spagna per scoprire il ristorante più antico al mondo ancora in attività. Si tratta del Sobrino de Bottin, nel cuore di Madrid, aperto addirittura dal 1725. Ernest Hemingway era un cliente abituale, mentre il pittore spagnolo Francisco Goya ci lavorò come cameriere. Interessante, non è vero? E' interessante anche il jackpot in palio oggi, che raggiunge la cifra di... 30 milioni di euro! Colleghiamoci ora con la Sala delle Urne per seguire l'estrazione di questa sera. Le 50 sfere numerate sono già state caricate nella prima urna elettronica. Il mescolamento automatico è iniziato. Tra pochissimo scopriremo il primo numero di questa sera. La nuova combinazione vincente di Eurojackpot viene svelata ora. Il primo numero è... 28 Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero... 30 Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 35 Quarto numero di questa estrazione. Eccolo! E' il numero... 11 La quinta sfera estratta potrà regalare vincite milionarie se associata ai due euronumeri, che arriveranno a brevissimo. Il quinto numero estratto è... 50 Passiamo ora all'estrazione dei due euronumeri. Il jackpot milionario potrebbe essere assegnato tra poco. Il primo euronumero di questa sera è il numero... 7 Manca una sola sfera per completare la combinazione vincente di questa sera. Il secondo euronumero estratto è il numero... 8 È il momento di scoprire la combinazione vincente. 11 28 28 30 35 50 I due euronumeri sono 7 e... 8 Vediamo insieme i risultati di questo concorso e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato centrato il 5 più 2, ma moltissimi giocatori hanno comunque realizzato ricche vincite, sia in Europa che in Italia. Continuate a seguire i canali Eurojackpot per sapere dove sono state realizzate le vincite. La caccia al jackpot milionario prosegue venerdì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a... 37 milioni di euro. Il jackpot corre veloce ed è sempre milionario. Siete pronti a giocare la vostra combinazione con soli 2 euro? Venerdì prossimo scopriremo i nuovi numeri vincenti. Vi aspettiamo!